Sono stati arrestati dalla Digos, 5 oltre del Napoli, che il 5 aprile scorso avrebbero pianificato e portato a termine una spedizione punitiva contro alcuni tifosi della Roma, che erano arrivati a Napoli dopo aver assistito la partita di Champions League Barcellona-Roma. L'accusa nei loro confronti è di rapina, lesioni aggravate, minacce e danneggiamento. Secondo la ricostruzione della polizia, 4 appartenenti al gruppo Secco Vive e 1 al gruppo Masteria hanno bloccato i tifosi giallorossi, che partiti su un bus da Capodichino sarebbero stati aggrediti lungo corso secondigliano. Ai supporter vennero anche rubati gli zaini. In tre sono finiti in carcere e gli altri due hanno ottenuto gli arresti domiciliari.